Ciao, Emilia, si, Piero. Finalmente ci conosciamo, è vero che ci siamo messaggiati su Whatsapp, infatti, però finalmente ci conosciamo. Posso dire una cosa? Dimmi? Cioè, dal vivo sei ancora più bella, veramente. Grazie. Cioè, hai i capelli, questi capelli ricci, tutti così, ma hai fatto la permanente? No, sono i miei. Ah, sono i tuoi, proprio i tuoi sono. Sì, i miei. Sì, sono bellissima. Grazie. Poi c'hai gli occhi, tipo a mandorla. Grazie. Sì, sì. Cioè, a me piace le mandorle. Simpatico. Sì. Senti, Emilia, scusami, sono un po' imbarazzata. No. Ma tu che lavoro fai? Io lavoro al call center, rispondo ai telefoni. Ah, quel che... Pronto, signora! È difficile il lavoro. No, è un lavoro che mi piace. Ah, ti piace? Tanto. È bella questa cosa. Senti, Piero, e tu che lavoro fai? Ah, veramente io non lavoro. Ah, come ti mantieni? Giovane. Ah, eh sì, quando uno lo lavora. Eh sì, capito? Eh sì. Mi chiediamo a fare qualcosa al bar. Volentieri. Eh sì, andiamo, dai così, smettiamo e rompiamo il viaggio.